Cosa dire, stasera abbiamo perso meritatamente, innanzitutto per nostro demerito ma sicuramente anche per merito della squadra avversaria. Sapevamo che erano forti, oltre a essere forti hanno anche saputo reagire molto bene, nonostante S1 è andata fuori partita, il cambio che ha fatto con l'altra giocatrice ha dato i suoi frutti perché sono migliorati nettamente in ricezione e comunque hanno tenuto sempre alto il livello dell'attacco. Noi ci siamo fatti troppo in nervosia a mio avviso, sentivamo un po' troppo la partita, non siamo riusciti a mantenere la propositività mentale, quasi quasi sentivamo che avevamo l'obbligo di vincere quando invece è vero che si gioca per vincere ma soprattutto attraverso il gioco si gioca per vincere, non è che si deve vincere. Questo è un concetto molto importante a mio avviso, su questa base qua dobbiamo ancora molto migliorare. Poi vabbè loro sono una squadra molto esperta, si è vista perché anche sulle palle meno belle sapevano sempre quello che devono fare e poi vabbè un plauso al loro palleggio che riusciva sempre in qualche maniera a mettere la palla dove voleva. Quindi nulla, ci vediamo tra tre giorni, vediamo di metterci un attimo in sesto e poi ce la giocheremo a ritorno in casa nostra.